Buonasera, buonasera e benvenuti al concetto appuntamento con il fatto Rivediamo a distanza di qualche settimana con piacere Adelchi Sulpizio. Buonasera Adelchi, Assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara. Torniamo a parlare dei PUC per le scuole. Allora, intanto diciamo subito che i PUC sono dei progetti utili alla collettività, riservati ai percettori, ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Per le scuole? Per le scuole noi siamo fra i comuni in Italia più virtuosi nel utilizzare i percettori di reddito di cittadinanza. Abbiamo delle fonti che ci dicono che siamo fra i comuni che utilizzano in assoluto più percettori di reddito di cittadinanza. Oggi illustriamo, mi fa piacere del vostro invito, i PUC che cosa fanno per le scuole all'interno delle scuole? Sono dei servizi molto importanti, molto utili, che percettori di reddito di cittadinanza pongono a favore della collettività. In questo caso dei ragazzini, dei bambini che frequentano in particolar modo le scuole elementari. Il primo abbiamo un progetto che è molto bello, i PEDIBUS, collaborato dal servizio mobilità qui del mio collega, l'assessore Luigi Elborre Mascia. All'interno dei PEDIBUS che è stato strutturato da parte del servizio mobilità, il percettore di reddito di cittadinanza aiuta, questo servizio aiuta i ragazzini affinché vengono accompagnati a scuola. Quindi significa, anziché far arrivare il genitore e lasciare il bimbo, immaginiamo l'elementare proprio davanti a scuola, immaginiamo a queste giornate il caos delle macchine, quindi la confusione, anche lo smog, noi abbiamo fatto delle aree riservate nei pressi della scuola, dove ci sono delle persone, in questo caso ben visibili, che sono i percettori di reddito di cittadinanza, che prendono dei gruppi di ragazzini e li accompagnano uno dietro l'altro. È bello vedere questi ragazzini che vengono accompagnati uno dietro l'altro dentro anche, presso le scuole. È un servizio molto importante, logicamente lo riusciamo a fare perché ci sono i percettori. Ci sono i percettori che quindi noi utilizziamo e capisci bene che è un servizio dove i genitori ci ringraziano, perché soprattutto consente di non accalcarsi di fronte alla scuola, quindi anche in queste giornate frenetiche, la mattina consente anche di stare nei pressi della scuola e di velocizzare queste operazioni. Tant'è che oggi siamo partiti solo in tre scuole, in tre istituti a Pescara, e ce ne stanno chiedendo di estendere in quasi tutte le scuole elementari. Quindi i genitori sono disponibili, no? Tanto. Perché mi viene in mente, il genitore magari dice, no, io lo porto davanti all'ingresso della scuola, mio figlio e me ne vado. Invece si fidano anche, ecco questo. Si fidano, sì. Questo per esempio è l'altro servizio che facciamo, vediamo qui i ragazzini, c'è lo scuolabus, qui noi abbiamo messo i percettori di cittadinanza all'interno del bus. Quindi che cosa fanno? Loro controlla innanzitutto una situazione di distanziamento. Immaginiamo che all'interno dello scuolabus è anche complicato, dobbiamo stare attenti, che i bambini non si trovino... Ecco, questo invece è il pedibus. Ah, questo è il pedibus. Questo è il pedibus. Quindi c'è un percorso che fanno a piedi i bambini, nei pressi della scuola. Nei pressi della scuola. Più o meno 50 metri dalla scuola. Sopra giù anche di più a volte. Anche di più. Ecco, noi ci abbiamo, qui siamo nei pressi della Stato Parco, se non sbaglio, e abbiamo questi ragazzini l'uno dietro l'altro, ben visibili, e ci abbiamo per l'appunto il percettore di cittadinanza che li prende e li accompagna a scuola. Vedi, sono abbastanza visibili con il cappellino, uno dietro l'altro. E questo che consente che, innanzitutto, questi ragazzini, bambini, le scuole elementari arrivano a scuola anche a piedi, fa anche bene, quindi anche salutare. Ma soprattutto, ecco, con un filo, uno spago, che sono uno dietro l'altro, tutti molto anche precisi. E siamo partiti soltanto in tre scuole, e ci stanno per l'appunto, come ti dicevo prima, chiedendo di estenderlo anche a tanti altri, tanti altri istituti scolastici. Quindi significa che funziona. Funziona, sì. Questo è stato, ecco, questo è il classico esempio di un'amministrazione virtuosa, dove è stato sviluppato dal servizio mobilità, presieduto dal mio collega Luigia Boremascia, con Gianni Santilli, che ha individuato l'assessore alla scuola, alle scuole dove fare il servizio. Ecco, qui adesso loro arrivano a scuola, appunto, si vedono le immagini. E noi con le politiche sociali, come il reddito, abbiamo dato questi percettori redditi di cittadinanza che svolgono questo servizio. Logicamente queste persone sono state individuate all'interno con particolare attenzione. Cioè non è che tutte le persone possono svolgere questo servizio. Noi abbiamo delle... E quali requisiti devono avere? Dei requisiti anche, si tende ad avere delle persone che in questo contesto hanno anche una predisposizione col stare che i bambini hanno magari anche delle esperienze pregresse nel mondo scolastico della pubblica istituzione o hanno anche dei titoli, anche delle particolari qualifiche oppure titoli scolastici particolari. Proprio immaginiamo anche persone che per esempio avevano istituti magistrali. Quindi vengono selezionate queste persone? Qui vengono selezionate, questi sono invece i nostri scuola, bus, che in questo contesto escono e quindi vanno in giro per Pescara con i percettori redditi di cittadinanza che sono all'interno. Logicamente quindi si tratta... Ecco, qui vediamo perché è importante questa figura. Prima avevamo l'autista che faceva salire. Qui l'importanza è che qui siamo a Pescara, se non sbaglio, nei pressi della scuola elementare di Via Rubicone. Noi abbiamo, ecco qui c'è anche un'altra figura che ne parliamo dopo, del nonno vigile. Nonno vigile, sì. E assume un ruolo importante perché? Perché i genitori si sentono anche più tranquilli perché questi bambini, immaginiamo, dentro vengono controllati per evitare che ci sia l'assembramento. La ripartenza scolastica, la difficoltà più grande era far sì che questi bambini all'interno dello scuola bus, non stessero uno attaccati uno all'altro e che poi i bambini, specie in qual modo delle elementari, immaginiamo la prima elementare, tendevano a stare vicini come, ahimè, è giusto che sia. E allora c'era bisogno in questo contesto di intervenire, abbiamo ritenuto che con persone qualificate da mettere sopra i pulmini sono dieci, quindi sono dieci percettori del reddito di cittadinanza che svolgono questo servizio. Qui diciamo che Pedibus è un programma di mobilità alternativa riservato ai ragazzi delle scuole elementari, abbiamo visto quando camminano verso la scuola, accompagnati dai percettori del reddito di cittadinanza che mantengono anche la distanza di sicurezza, proprio per essere, per l'osservanza delle norme anti-Covid. Sì, ma infatti fra le varie misure, noi abbiamo avuto, diciamo all'interno di questo progetto che parlavi tu prima, PUC, il lavoro di pubblica utilità per Pescara, noi abbiamo risolto tanti problemi proprio per il Covid, non ci scordiamo che abbiamo per esempio 10-12 percettori e di cittadinanza all'interno di un altro protocollo che noi parliamo oggi all'interno dell'ASL, che sono le temperature alle persone sempre che sono nei pressi dell'ospedale. Questo contesto fra gli elementi basilari che hanno loro è quello di evitare che ci sia l'assemblamento nel pulmino mentre si raggiunge la scuola, davanti alle scuole, vediamo i nonni vigili, il nonno vigile è fondamentale anche per far sì che davanti alle scuole non ci sia assemblamento, tant'è che davanti alle scuole, ecco qua immaginiamo che logicamente la mattina c'è sempre molta confusione, guardate l'ordine di questi bambini che arrivano a scuola felici, contenti, stranamente felici e contenti perché all'interno con i loro amici è una bella iniziativa. Assolutamente, sono d'accordo anche perché abbiamo il supporto delle immagini, i nostri spettatori possono anche guardare e giudicare, però davvero complimenti che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, i nonni vigili, è un po' cambiata, è cambiato il profilo rispetto al recente passato? I nonni vigili si chiamavano nonni vigili perché prima erano dei nonni, erano dei nonni che storicamente il comune di Pescara aveva, che erano davanti alla scuola, che aiutavano anche nell'età del pensionabile i ragazzi ad attraversare, stare lì, a evitare che ci fossero anche situazioni un po' particolari, un po' strane, davanti alle scuole che venivano immediatamente segnalate, se del caso, alle pubbliche autorità. Oggi è cambiato il nonno vigile, abbiamo lasciato il nome perché un progetto molto bello era, però l'abbiamo fatto anche qui con i percettori redditi di cittadinanza, abbiamo aumentato il numero, abbiamo una cinquantina di percettori redditi di cittadinanza e anche loro, con le loro pectorine, sono davanti le scuole e svolgono il loro servizio affinché ad esempio nell'attraversare i bambini, quindi il bambino delle elementari che in realtà va a scuola da solo, che il genitore piano piano tende a lasciarlo sempre più lontano anche per dargli quell'autonomia, abbiamo questi nonni vigili che aiutano ad attraversare, quindi c'è sempre un occhio vigile che è il momento che capisce se c'è un momento di traffico, quindi regolamenta proprio quella fase e poi noi abbiamo dato anche ulteriori incarichi, ulteriori incarichi che all'interno della figura proprio di questa problematica che speriamo che prima o poi ci abbandoni del Covid, loro intervengono nel momento in cui ci sono particolari situazioni di assembramento, quindi ricordando ai genitori e anche ai bambini che bisogna avere sempre le distanze di sicurezza, tant'è che in questo, mentre prima i nonni vigili erano uno, in alcuni plessi scolastici dove abbiamo più situazioni un po' più particolari, ne abbiamo messi due, quindi uno che svolge più una funzione di controllo nella fase per far aiutare i bambini ad attraversare e un altro invece che svolge una funzione proprio di controllo anti-assembramento, in questo caso hanno anche una pittorina di un colore diverso proprio per distinguere, che intervengono quando vedono che ci sono genitori ai mesi senza mascherina, troppo vicino anche agli altri bambini, quando vede situazioni critiche interviene. Oggettivamente è un'attività molto delicata, perché quando fai attraversare i bambini devi stare molto attento e qui dovete individuare il profilo giusto, immagino. Sì, ma infatti questo è un servizio che viene svolto anche attraverso l'ausilio, viene gestito dalla Polizia Municipale, infatti la Polizia Municipale è che il percettore di registro di cittadinanza, almeno come le intendiamo anche sia alla normativa ma soprattutto all'interno del Comune, non sono persone che vengono prese e dall'oggi al domani vengono poste a svolgere un servizio di pubblica utilità, no. C'è una situazione di formazione che è basilare, cioè le persone che svolge la funzione del pedibus per esempio, sono persone che sono state formate con vere e proprie corsi di formazione all'interno del Comune, delle strutture, dove gli è stato insegnato cosa fare e cosa non fare. Va da sé che le persone che sono andate a scuola devono sapere il codice della strada, quindi la Polizia Municipale ha fatto numerosi corsi a queste persone proprio per far sì che abbiano tutti gli elementi tali per svolgere quel servizio, per aiutare i ragazzini a attraversare, quantomeno di avere le norme basilari su quello che è il codice della strada, ma poi sono anche persone che strada facendo non vengono abbandonate a se stesse, cioè nel senso che non è che sono persone che noi lasciamo lì e svolge quel servizio, c'è un'attività da parte delle politiche sociali, degli assistenti sociali dei riferimenti che le contatta, vede quali sono le problematiche, vede come intervenire, vede situazioni di criticità, ci si incontra, diciamo che è bello il servizio ma è tanto lavorato. Assolutamente, la formazione dunque dei nonni vigili sintetizzando è fondamentale, viene fatta in modo particolareggiato se vogliamo, però vengono scelti anche in base all'età oppure no? Sulla base anche dell'età logicamente per stare anche con i bambini, immaginiamo accompagnarli, deve essere una persona che anche dal punto di vista strettamente fisico deve essere anche in buone salute, deve essere in buone condizioni, però è tutto il programma dei percettori di cittadinanza che viene svolto affinché le persone vengono prima valutate, vengono fatti dei colloqui anche attitudinali per capire dove possono andare, cioè logicamente abbiamo parlato l'altra volta delle persone che svolgono servizi di manutenzione, lì avevamo persone che bene o male sapevano fare chi il muratore, chi il pittore, chi il drago. Quindi assecondare le proprie inclinazioni. Ma anche vedere quali sono le aspirazioni, perché anche cercare di capire quali possono essere le aspirazioni della singola persona e capire dove poterla anche inserire, anche per una forma di propria soddisfazione, perché poi la cosa più importante e la cosa più bella è vedere anche queste persone quando svolgono questo servizio che alla fine si sentono importanti. Quello dà una doppia soddisfazione, perché siamo consapevoli che diamo un servizio alla collettività e poi dall'altra parte diamo anche una forma di soddisfazione a queste persone. E poi credo che sia non solo una gratificazione a livello umano, cioè professionale, ma anche a livello umano, perché comunque sono a contatto con i bambini, quindi questo è un altro aspetto secondo me da considerare. La terza novità, gli accompagnatori dei bambini. Sì, noi abbiamo gli accompagnatori, sono per l'appunto queste persone che svolgono questo servizio che accompagnano i bambini in particolari situazioni, anche lì è un servizio molto molto importante, quindi sono anche lì, noi stiamo anche, ci sono i pedibus per esempio in una situazione che già da tempo lo troviamo in diverse città, Pescara sicuramente è un servizio fra i precursori, però già da tempo. Il nonno vigile siamo stati forse la città di Pescara che è stato fra le primissime in Italia, fra le prime, sono decenni ormai che c'è a Pescara. Cerchiamo di sperimentare, non mi piace con questa parola, cerchiamo anche di porre delle situazioni per dare delle risposte alla cittadinanza, perché diciamo che tutti questi servizi, anche l'accompagnare i bambini alle elementari, cioè farci carico noi come istituzione, di portare il bambino proprio direttamente all'interno della scuola, prendendolo ad esempio da zone limitrofe, quindi anche a piedi, non solo con lo scuolabus che rappresenta sempre l'elemento classico. Sono situazioni con cui noi vogliamo dare delle risposte a quelle che sono le esigenze della cittadinanza. Siamo qui per fare un servizio alla cittadinanza e cerchiamo di farlo sempre nel miglior modo possibile. Assolutamente, poi insomma se sono contenti i genitori dei bambini già avete centrato l'obiettivo, secondo me perché. Ma noi siamo anche consapevoli che poi anche da padre mi rendo conto che la centralità la poni sempre i suoi figli, cioè quando la nostra esistenza, quando ha dei bambini soprattutto, quando vanno alle elementari stai sempre lì attento. Hai anche una situazione di, ne parlavamo anche con gli altri assessori, c'è anche una situazione di fiducia nei confronti delle istituzioni, di fiducia, quindi all'inizio si tendeva anche a capire, c'era anche una forma su alcuni servizi, a piedi il bambino in queste aree, poi aumenta la fiducia, si capisce, nasce anche un rapporto, sai che accompagna il tuo figlio, cosa fa, è importante. Diciamo che si instaurà anche un rapporto in natura fiduciaria, no? Sì, sì, fondamentale, importante, gli accompagnatori che dicevi sui pulmini è fondamentale perché poi è la persona che ogni giorno fa sì che quando il pulmino arriva davanti a scuola lui scende, parla con la madre magari, c'è ormai un rapporto di fiducia, ci si conosce, dopo anche diversi mesi c'è una forma proprio di vera e propria amicizia e ci rendiamo conto che è un qualcosa, siamo sulla giusta strada, perché, e ti ripeto, come dicevi te giustamente, il fatto che il cittadino ci richieda questo servizio ci può fare sempre di più a stendere sempre in maggior numero possibile. L'ultima, Assessore, perché non accennano a diminuire le polemiche sul reddito di cittadinanza, questo è un tema caldissimo a livello nazionale, che cosa risponde a Delchi sul pizio? È un discorso che, specie in questi giorni di attualità, abbiamo sentito sulla finanziaria, sì, finanziaria, no, vedevo anche qualche sera la polemica, cioè chi è favorevole dice è importante, perché dobbiamo garantire questa aiuta e chi no, stiamo facendo delle persone che in realtà stiamo creando anche delle persone del divano. Io parto da un presupposto molto semplice, io faccio l'Assessore a Pescara, non faccio il parlamentare, quindi non è che devo decidere se sia giusto o non sia giusto, se lo devo prospettare oppure no. D'Avvocato ti potrei dire dura l'ex, sede l'ex, noi abbiamo questa legge e l'applichiamo, quindi fino a quando ci sarà questa legge e la legge pone che il percettore di reddito di cittadinanza debba svolgere dei lavori socialmente utili, Pescara continuerà in questo senso a far sì che il percettore di reddito di cittadinanza debba svolgere questo servizio, che ricordiamo è un obbligo, pena in alcuni casi anche la decadenza dalla relativa indennità. Quindi l'Assessore sul Pizzo pensa che noi dobbiamo continuare, sono delle persone che percepiscono da una parte questo reddito, la legge da una parte gli dà questo diritto, dall'altra gli dà il dovere di svolgere queste funzioni, a noi sta la capacità di trovare dei progetti, dei servizi di pubblica utilità che possa aiutare le altre persone che magari in quel momento vanno a lavorare, che quindi hanno bisogno nella fretta di far sì che il figlio non vada a scuola a piedi da solo, ma che ci sia sempre un occhio vigile che le controlli. La mia posizione è che fino a quando questo reddito ci sarà, noi dobbiamo continuarlo ad applicare e far sì che ci siano sempre più numerosi progetti. La soddisfazione è sentire anche il riconoscimento da parte a livello nazionale di tanti attestati che ci arrivano anche da quotidiani nazionali, che pescara sia per il numero di percettori, noi in questo momento abbiamo oltre 290 percettori redditi di cittadinanza che svolgono lavori socialmente utili. Posso assicurare che è un numero elevatissimo, perché poi abbiamo fatto capire anche ai telespettatori che non è che sono persone che vengono prese e vengono lasciate lì, vanno prima formate, vanno seguite, vanno anche, prima di tutto vengono fatti numerosi colloqui per capire le proprie attitudine, anche particolari propensioni a svolgere quel tipo di servizio, però penso che avremo anche tanti altri progetti che vorremmo attivare. Migliore risposta davvero non poteva dare, sul pizio, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, vogliamo anticipare il prossimo focus, no? Abbiamo il prossimo focus, abbiamo anche sempre altri progetti redditi di cittadinanza, lo diremo la prossima volta, che poi so che anche altri comuni, faccio una chiusa finale, vedono la tua trasmissione e chiamano chiedendo come avete fatto quel servizio e lo vorrei stendere anche gli altri comuni, siamo diventati anche a supporto magari a quei piccoli comuni che non hanno una struttura che abbiamo noi all'interno del Comune di Pescara con dei funzionari bravissimi e quindi stiamo dando anche un aiuto anche ai comuni più piccoli e questo mi fa enormemente piacere. E questa è la più grande gratificazione per il Comune di Pescara, grazie ancora ad Adelchi sul pizzo, assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, alle prossime per quanto riguarda il fatto.